Anno 2007. Sam Witwicky, studente e appassionato di macchine, viene in possesso di quella che sembra un'automobile ma si rivela essere un alieno Autobot con il quale il nostro Sam stringe amicizia e finisce per salvare il mondo. Da qualche parte nel multiverso però c'è una storia di una versione diversa di questa storia, una versione nella quale il nostro Sam non trova un Autobot ma un Decepticon che si innamora di lui e ne approfitta per aiutarlo a vendicarsi di tutte le cose che vanno storte nella sua vita. Il film che racconta questa versione alternativa di Transformers compie proprio in questi giorni 40 anni e ve ne parliamo questa sera nella puntata 165 della 400 Live. Sigla! Buonasera e benvenuti e benvenute a questa puntata numero 165 della 400 TV. Un grazie innanzitutto per cominciare a George Romer che ha suggerito questo cold open con una mail arrivata oggi pomeriggio a me e all'amico Terrence nella quale diceva Ma raga ho avuto un'illuminazione. Christine è Transformers se Sam Witwicky avesse conosciuto un Decepticon che si innamora di lui. Questa cosa ha rovinato per sempre un classico intramontabile. Esatto. Ha fornito il cold open però ha fatto anche dei danni. Però ha creato un bellissimo film nel multiverso. Io faccio l'applauso a tutti e due per questo cold open. Cioè è pensato da George e magistralmente fatto da Staglio. Bravi tutti. E' stato da George. Attenzione. Il remake sta per arrivare quindi abbiamo pronto uno sciaglio. Dovrebbe essere diretto da Michael Bay. Ecco purtroppo non sarà così insomma. Abbiamo solo un abbonamento. Ma ne parleremo. Non solo abbiamo un abbonamento. Prima di arrivare all'abbonamento che ci consentirà di ricordare tante cose utili e pratiche. Io volevo farvi notare che ci ha scritto il nostro Mubot, il nostro troll informale. Dice le cose che ci saluta. Si presentandosi come fellow human quindi sta già cercando di ingannarci come Skynet. e dice alcune cose che ora tra poco dovrò fare perché ho paura che mi tenga fuori da Mubot e questo potrebbe creare dei problemi più tardi nel momento clou della serata. Il momento clou della serata che attenzione è collegato anche al fatto che dobbiamo ringraziare Johnny Totoro per l'abbonamento per sette mesi consecutivi. Non solo siamo onoratissimi e ti facciamo ringraziare dalle nostre mascotte preferite tra cui cominciamo subito così. Oggi si parla di motori quindi c'è subito un Maverick. Grande, il fratellone. A cui risponde Miss Maisel? Cioè per questo simpatico gioco. Ero perso Miss Maisel, non l'avevo mai visto prima. Sì no, ormai il doschetto della nostra fantasia si sta popolando sempre di più. Qua abbiamo anche Jared Gucci, insomma. Tante tante belle cose. Jared Gucci che solleva il ditino stronzettino. Eh sì. Eh però... E vai! Devi farlo con l'accento da... Che sembra anche vagamente Einstein, Jared Gucci. Un po' più di baffo. Sì se non sbaglio ho rilato il trucco in Oppenheimer. Sì. Comunque sempre Jared Leto anche se non sembra. C'era un battarino in cui c'erano i baffi e la parrucca già pronti lì praticamente. Allora signor Nolan abbiamo possibilità di partire da zero insomma spendiamo questo. Se no, se vuole guardi c'è già questo qui. Abbiamo Jared Leto. Esatto, che è in method acting da anni. Già, già pronto. Lo surgeliamo, lo scongeliamo un'anno. Conserva tutto lui, conserva tutto. Del Jared non si butta via niente. Comunque Stanley... Chi è abbonato non solo... Ah vai scusa. ...ci fa estremamente felici perché sei abbonato. Non solo non vede la pubblicità durante le dirette, ma in occasione del Jimmy Bobo che si tiene tutti i giovedì sera, quindi anche questo giovedì, vale la pena ricordare che da Costituzione di Valverde il voto dell'abbonato per scegliere il vincitore del Jimmy Bobo vale doppio. Quindi se vi abbonate fate del bene a tutti, anche alla causa del Jimmy Bobo che comunque è una causa, io credo, importante. Nobile. Nobile soprattutto. Nobilissima. Sì, 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 è una causa... E infatti, oh, guarda che cosa bellissima. Mentre dicevamo questa cosa, Anonymous, quello con la maschera di Vendetta, ha regalato un abbonamento ai Roshi 79. Che gentilezza, è una cosa bellissima, ti facciamo ringraziare. Una cosa spenda. Chi è che può essere così felice di questa gentilezza? Secondo me... La nostra Angela. Che bella. Che ringrazio per l'abbonamento. Lei è stupenda. Lei è la mia cosa preferita, credo, del mondo. E c'è stato, scusate, c'è stato questo scombio stupendo, Vigo il Carpatio. Carpatio, car, vedi, perché stasera si parla. Dice, mi è scaduto l'abbonamento e allora Tavidistiano ha regalato un abbonamento a Vigo il Carpatio. Ma siete bellissimi. È stupendo, cioè ormai siamo ai virtuosismi. Sapete usare... Davvero. Ma qui si avvicina il Natale. Siete tutti più gentili, più buoni. Sì, è incredibile. Avete commosso persino lui, ovviamente, il signor Caprotti, che ancora non si era fatto vedere. Stava guardando le cose dall'ombra. Vigo il Carpatio ci dice che Vigo il Carpatio è un errore, ma io invece pensavo che fosse Vigo il Carpatio in Toscana. Vigo il Carpatio. Magari è Vigo il Carpatio in Toscana. Magari è Vigo il Carpatio in Toscana. Ma lo sapevo. Allora, io devo contattare temporaneamente Nanni per farmi dare dei codicilli, per fare delle cose. Volete cominciare a introdurre voi Christine, la macchina infernale, mentre io cerco di capire... Assolutamente. ...risolvere questa cosa? Va bene. Chi inizia, Terrence? Ma insieme, Giorgio, se vuoi iniziare un attimo te, poi mi collego, vai pure. Allora, Christine, la macchina infernale, film del 1983, diretto dal nostro carissimo amico Il Baffo Carpenter, che a breve compierà 40 anni, non ho visto la data... Il 9 dicembre. Il 9 dicembre è uscito nelle sale statunitensi. Sì, sì, sì. Poi non so, onestamente, sarà uscito probabilmente nell'84 da noi, perché all'epoca non uscivano subito. No, sì. Comunque è un film che ha un posto particolare nella filmografia di John Carpenter, perché arriva subito dopo quel cazzo di capolavoro incredibile che è La Cosa, che purtroppo La Cosa è uno di quei film che alla sua uscita, come sappiamo bene, non fu assolutamente capito, perché è uscito... Sì, fu un bel flop anche. Sì, sì, c'è uscito tipo a ridosso dell'uscita di E.T., in un'epoca in cui tutti ovviamente volevano gli alienini buoni, simpatici, con il litino luminoso e il cuore che palpita, eccetera. E naturalmente Carpenter, come al suo solito, fa un film paranoico, terrificante, che parla dell'America e facendo discorsi che la gente non vuole sentirsi dire, specialmente in un'epoca come quella, insomma, all'inizio dell'epoca reganiana, in cui invece si guarda allegramente verso un futuro radioso, in cui tutti sono bianchi e si tengono per mano. Film, tra l'altro, se posso dire, il film è tornato incredibilmente alla ribalta durante la quarantena, quando tutti diffidavamo di tutti. È stato uno dei film che era tornato in auge durante il periodo del Covid. Sì, sì, sì. Però invece esce nell'82, che è... Cioè, gli anni 70 della paranoia, dell'angoscia, sono finiti, si guarda verso un futuro, appunto, più luminoso, e quindi Campenter sembra fuori tempo massimo. Insomma, il film va malissimo. Beh, sì. Non solo va male il film, ma non viene neanche capito dalla critica. Cioè, la critica, ovviamente, come al solito, ci fa una delle sue bad figure di merda e non si rendono conto di avere per le mani una cosa che resterà in eterno. Oggi addirittura leggevo, che non mi ricordo più chi aveva detto, è a confronto, insomma, cioè non gli fa neanche le scarpe al film di Howard Hawks, no? E adesso, qual è dei due film che ci si ricorda di più? Naturalmente, quello di John Carpenter, senza nulla togliere, insomma, il film di Howard Hawks. Sì, poi tra l'altro è diventato uno dei pochi esempi di... Quando uno dice, no, si possono fare anche dei remake fatti bene, e la cosa è diventato proprio il remake che ha avuto senso fare per tutta una serie di contingenze storico-culturali, ecco. Ma tra l'altro quell'anno era difficile, in generale, vincere contro E.T. Cioè, tutti quelli che uscivano al cinema quell'anno, purtroppo, hanno perso la gara della vita. La grande corsa della vita. La grande corsa della vita l'hanno persa, quell'anno, contro quel maledetto. Tutta quella robaccia, che non è robaccia. Mi hai letto nel pensiero, Stanley, ma non riuscivo a trovare la parola. Non è robaccia. Intanto abbiamo risolto. Abbiamo risolto. Quindi, vabbè, insomma, se vuoi lascio la parola a te. No, no, no. Siamo arrivati alla cosa. Nell'82 esce la cosa, la cosa va male, e naturalmente, come spesso succede a Hollywood, Carpenter deve correre in qualche modo ai ripari, e la soluzione è dirigere per la prima volta un progetto che non viene da lui. Sì. Giusto. Nello specifico, visto che sono quegli anni lì, dirigere un progetto tratto da Stephen King. Esatto. L'83 credo che sia forse uno dei due o tre anni d'oro degli adattamenti, perché ne uscirono tre. Sì. Uscì Cujo, uscì Christine, e uscì un terzo che non mi sto ricordando. La zona morta di Cronenberg. La zona morta, giusto. E comunque, tra l'altro quanto fa ridere che Christine potrebbe essere, nel senso, Cronenberg avrebbe fatto un Christine particolarmente affascinante, visto che però ci arriveremo, insomma. È vero, è vero. No, lui, tra l'altro, lui all'inizio non doveva finire in realtà a dirigere Christine, lui doveva dirigere Firestarter, che poi, per vari motivi, il progetto passò di mano, visto che adesso ne manca l'abbonamento. Scusami, l'ho portato. Abbonato, sì, o Nana Jones, lo facciamo ringraziare dal più classico. Donna, grande! Grandissimo! E anche da Caproom, dai, che comunque anche lui ormai è un classico. Un nuovo classico. Grazie, grazie a Nana Jones, anche a te per l'abbonamento. Richard Lester. No, non è Richard Lester, il regista di Firestarter. è un regista che non ha un nome che non è così. Mark Lester. Mark Lester, ah, ok, ecco. Mark Lester, famoso poi per aver diretto sostanzialmente un cazzo. No, non è vero. No, qualcosa di più. Mark Lester. È il regista di commando, tra le altre cose. Ah, ecco, giusto. Sì, 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 eccolo là. Mark Lenders, esatto. Ho fatto delle cose, gli finì in mano Firestarter, tra l'altro progetto nel quale Carpenter rientrò poi dalla finestra, è riuscito a rientrare la finestra l'anno scorso facendo le musiche del remake. Che è uscito l'anno scorso. Guarda, pensa che l'ho visto settimana scorsa per la prima volta, io l'avevo saltato a pie pari con gran gusto, settimana scorsa sono purtroppo arrivato il momento di vederlo. Sei insampato. Un film di merda. Veramente terribile. Un film di merda, cioè non c'è proprio niente di carino da dire. E quindi Carpenter, non potendo fare Firestarter, venne dirottato su Christine, che poteva essere Christine, poteva essere anche Cugio, perché poi era stato un intero pacchetto comprato dalla produzione, cioè Christine è un film da studio, la produzione compra il pacchetto di roba da Stephen King, tra l'altro Christine esce lo stesso anno del film, cioè il libro esce lo stesso anno del film, o viceversa. E credo idem Cugio, forse Cugio è uscito l'anno prima, comunque insomma erano stati comprati i diritti proprio quando King stava ancora scrivendo i libri. È una cosa che si fa ancora comunque questa, di prendere i diritti di un romanzo. Soprattutto di King. Soprattutto di King, esatto, che all'epoca si pippava come un idrovora e buttava fuori una quantità di roba. Sì, sì, sì. Quello era proprio il periodo d'oro. Il primo periodo d'oro, prima ancora poi dell'esplosione vera e propria. Se posso aggiungere una cosa, sì, quello è stato un po' l'anno in cui sono confluite vari, cioè almeno due Masters of Horror del cinema, appunto Cronenberg e Carpenter, si sono incontrati con la mente di Stephen King, quello stesso anno poi sarebbe, cioè Christine esce a dicembre, in agosto, se non ricordo male, è uscito Cugio e a ottobre è uscito la zona morta o il contrario. Comunque Christine è l'ultimo durante l'anno che era uscito e Carpenter veniva comunque dalla cosa, come ricordava giustamente George all'inizio e quindi aveva già fatto Distretto 13, aveva già fatto tutto quello che c'era anche prima, 1997 Fuga da New York, l'aveva già fatto, quindi comunque il suo pubblico se lo stava creando nonostante il flop della cosa al cinema, aveva già fatto Halloween, quindi era un nome Carpenter, dall'altra parte anche per King al cinema era quello un ottimo anno sia per il numero di film che erano usciti sia proprio anche per quanti adattamenti c'erano stati precedentemente, perché c'era già stato Brian De Palma con Kerry, c'era già stato Kubrick con Shining, c'era già stato Tob Cooper con Le notti di Salem, quello televisivo, quindi era proprio un buon momento per, al di là del fatto che, un po' come per tanti che venivano magari da un flop e gli dicevano adesso mi fai l'adattamento di Stephen King, al di là di quello, era un bel momento per vedere questo incontro. Sì, tra l'altro scusate ma Davide, Schiano chiede quale sarebbe stato il romanzo di King più adatto allo stile di Carpenter? Io credo che la risposta corretta a questa domanda sia Salem Slott, però potrei magari sbagliare. Chi lo sa che Christine tra l'altro, e adesso qua possiamo, cioè arriviamo a parlare proprio un po' del film, perché secondo me è un film di culto, molto amato, a cui anch'io voglio un casino di bene, ma secondo me non è né che non sia il più bel film di Carpenter, credo che nessuno possa metterlo in dubbio, e forse non è neanche tra i migliori adattamenti, forse banalmente dei tre usciti quell'anno è quello meno riuscito, e secondo me in generale non è un film perfettamente riuscito del tutto pieno al 100%, che ha tante belle cose, altre cose che funzionano meno, e quindi è interessante parlarne anche per questo, non so. Assolutamente d'accordo, sì sì, assolutamente d'accordo. Ma allora sul fatto di non essere uno dei migliori adattamenti di King, confesso ovviamente di non aver visto tutto, però secondo me facilmente lo è, più che altro perché è uscita tanta di quella merda tratta da King, che veramente ce ne vuole, cioè comunque è un film dignitosissimo, siamo d'accordo sul fatto che per forza non è un film di John Carpenter, perché proprio per il fatto che comunque non è un progetto che viene da lui, è un progetto che lui ha sviluppato su commissione, che ha fatto scrivere a un'altra persona, quindi non è nemmeno un film scritto da lui, in ogni caso avrebbe anche potuto renderlo suo se fosse stato un progetto a cui magari teneva e che avesse scritto da solo, però in realtà l'ha fatto scrivere un'altra persona, quindi di fatto è un film che lui dirige, chiaramente insomma lo sceneggiatore è uno sceneggiatore di fiducia perché era Bill Phillips, si chiama, insomma era quello che aveva scritto Firestarter quando lui era coinvolto in Firestarter, per cui è chiaro che non è che l'ha scritto in un vuoto e dopo gli ha passato la sceneggiatura una volta ultimata, è chiaro che l'ha scritto con Carpenter dietro la spalla, che lo guardava, però insomma comunque è un film in cui Carpenter fa il suo lavoro da regista, diciamo. Sì, sì, quello senza dubbio. Allora, io quello che penso in generale è che un film, forse in generale questo non è un racconto che si presta a un lungometraggio così esteso, cioè comunque Christine la macchina infernale dura due ore e probabilmente ora io non ho letto il romanzo e mi viene da dire che non dovrebbe essere una cosa molto lunga, cioè non penso che sia IT. 500 e passa pagina per ora. È bello lungo il romanzo. È bello lungo? Ok, perché io non posso fare il confronto con il romanzo. Succedono esattamente tutte le stesse cose che si vedono nel film o Carpenter ha dovuto tagliare narrativamente molte cose. Io non l'ho letto, però so che ha tagliato in particolare una cosa che si nota molto nel film ed è la trasformazione di Arnie, perché nel film Arnie prima è un nerd e poi è Ivo Larni, ma non c'è tanto una progressione, no? Ok. Nel romanzo ovviamente questa progressione c'è e come, da quello che ho letto, perché il romanzo non lo l'hai letto. Il romanzo è decisamente più ricco, ci sono molti più aneddoti da romanzo di Stephen King, cioè praticamente tutti i romanzi di Stephen King alla fine hanno uno scheletro su cui sono innestati tanti 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 aneddoti e l'adattamento alla fine è quasi sempre un lavoro di selezione, vedere quali sono quelli che vanno appena tenere e quali meno. ovviamente meno ce ne sono, più è facile selezionare, fare un adattamento semplice, più ce ne sono, più è complicato. It è sempre stato un casino anche per quello, cioè è un libro in cui ogni blocco di 10-15 pagine magari ciascuno lo considera come il suo preferito per un motivo assolutamente personale e c'è la possibilità che poi non finisca nel film. King racconta sempre tante cose, nel senso tanti eventi, è raro che nei suoi libri non succedono cose o succedono spalmate su tante pagine. Con Christine è così, cioè alla fine c'è un motivo secondo me se King stesso che sia un cagacazzi con i suoi adattamenti è uno che tra l'altro negli anni 80 era ancora convinto che il modo migliore per fare film tratti dalle sue opere fosse che li facesse lui. Sì, poi ha fatto brivido. lì ha capito che forse ci si poteva anche dare una calmata, però insomma lui vedeva gli adattamenti fatti da altri anche sotto quest'ottica, sotto l'ottica del io lo farei meglio e Christine è uno di quelli che lui odia di più perché dice proprio, cioè è un film noioso per me e io posso anche capirlo nel senso ovviamente hanno dovuto tagliare delle cose rispetto a un romanzo ricchissimo che poi tra l'altro è anche più lungo di quello che forse ci sarebbe bisogno per la storia, cioè anche il romanzo non è uno dei migliori romanzi di Stephen King. È incredibile che sia uno dei film più lunghi, abbiamo un abbonamento, volevo dire questa cosa. Ah, hai ragione, hai ragione, me ne stavo dimenticando. Però è incredibile che sia tra l'altro uno dei film più lunghi. Ringraziamo Hermosa Samosa. Hermosa Samosa, che meraviglia, che cosa meravigliosa. è talmente bella che ha fatto felice anche lui. Guarda, guardate, la gioia, addirittura il mago dell'esse lunga non capisce più nulla. Io tutte le volte che vedo questa foto penso alle caramelle, quelle con le uova. Sì, anch'io. Le caramelle gommose. E ne mangiai tante scadute per dimostrare che le caramelle non scadono mai. E stessi malissimo. Diciamo che il giorno dopo non fu facile poi, come dire, far rientrare nel grande circolo della vita tutto ciò che era entrato dall'ingresso principale. Ma eravamo giovani e si potevano ancora fare questo. Però se adesso mi ricovererebbero. Comunque sì, è incredibile che sia uno dei film più lunghi di John Carpenter, tra l'altro. Perché John Carpenter di solito faccia film da un'ora e mezza, questo dura un'ora e cinquanta. È vero, è vero. Ma allora, io quello che ho sempre pensato riguardo a questo film, anche riguardandolo, e che, ripeto, io non avendo letto il romanzo non ho una visione così dettagliata come puoi averla tu, Stanlio. Però mi ha sempre dato l'idea di un racconto che poteva funzionare molto di più sulla breve durata piuttosto che farlo così lungo. In particolare io ho sempre pensato che il racconto, proprio la storia di Christine, come viene svolta, può funzionare molto bene all'interno di un'antologia episodica di 20-30 minuti dove ogni volta chiami un regista diverso, come può essere un Cabinet of Curiosities di Del Toro, e allora John Carpenter gli tocca, o gli tocca, sceglie il racconto Christine, la macchina infernale e in 20-30 minuti racconta tutto quanto, quello che succede, e così potrebbe funzionare meglio. E questa è un po' la sensazione che ho avuto io quando l'ho visto la prima volta e anche quando l'ho rivisto recentemente, perché ha un inizio, secondo me, che il film secondo me ha un inizio molto molto buono dove è super coinvolgente e c'ha un terzo atto che oggettivamente arranca un pochino. Verso l'inizio del terzo atto un pochino ci sono dei momenti che un po' lo posso capire che può risultare magari ad alcuni noioso. Dimmi, George, vai pure. Il secondo atto ha una cosa molto strana e poco riuscita, che è il personaggio di John Stockwell, che a un certo punto sparisce praticamente. Cioè lui si rompe la gamba e basta. Basta, fortunato. Poi lo vediamo in un paio di scene a letto, all'ospedale, però di fatto... Ed è molto strano, sia come ritmo della narrazione, che proprio come struttura, perché fino alla scena in cui lui si rompe le gambe, e secondo me stava venendo fuori una cosa interessante, cioè lui era comunque il protagonista, cioè l'idea secondo me era che lui fosse il protagonista, che la storia di Arnie fosse raccontata dal suo punto di vista. Dal punto di vista dell'amico. Perché quando c'è la scena in cui lui si rompe la gamba è perché vede Arnie con la ragazza che gli piaceva a bordo campo e viene distratto e si rompe la gamba. E poco prima avevamo preso, quando lui va da lì la ragazza e gli dice ti va di uscire con me, lei gli dice ho già un impegno. Quindi praticamente ci stanno raccontando lo sviluppo, il cambiamento, la trasformazione di Arnie senza farcela vedere fuori campo e ce la raccontano dal punto di vista di, come si chiama il personaggio di John Stoffel, insomma lui. Dennis. Dennis. Poi dopo che si rompe la gamba praticamente il film cambia direzione completamente e il protagonista diventa Arnie e ti fa vedere tutto attraverso Arnie, Arnie compare in scena, ti fanno vedere l'evoluzione del rapporto con Lee, eccetera. Mentre Dennis è in ospedale. E poi c'è il terzo atto in cui Dennis torna in azione, quindi è strana quella cosa lì, cioè non è scritta bene, non è sviluppata bene come roba. Sembra quasi come se stessero lavorando su commissione e l'avessero un po' tirata via, tanto che cazzo ce ne frega ci pagano comunque, per cui la facciamo più via. Ma allora, c'è un problema fondamentale di adattamento, che poi non è un problema, è una scelta di adattamento, da cui secondo me deriva poi tutto il discorso che fai tu sul fatto che effettivamente Dennis è presente come una parentesi aperta e chiusa in mezzo, lui non c'è. Il romanzo, come poi ci sono anche tutti i romanzi di quel periodo di King, da It in Giù, è sostanzialmente una grossa metaforona dell'adolescenza, del bullismo, del ritrovare la sicurezza in se stessi, ma anche delle cattive compagnie, di come una persona, in questo caso un'entità di cui ti innamori, ti possa far completamente perdere la tua bussola morale, perché ti fornisce, insomma, ti fa sentire forte, finalmente sicuro di te stesso. E quindi, insomma, tutti i soliti discorsi che in It magari erano più, come dire, spostati verso i 12-13 anni, quindi gli mancava tutto un aspetto che in Christine c'è, che è quello più sessuale, classico, da adolescente, insomma, lui che c'ha la fidanzata, ma poi se la fidanzata si mette con l'altro, il triangolo perverso, eccetera. Cioè, tutte queste cose sono raccontate, riraccontate in un ampio, fresco narrativo che dura più di 500 pagine e che dà a Dennis molta più importanza perché Dennis è quello che scopre il segreto dietro a Christine, che è una cosa che nel film manca completamente. Cioè, la Christine del film, potevo partire con questo, di dire questa frase che spiegava tutto e poi fare il pippone, però così ci ho messo l'attenzione. Cioè, la Christine del film sappiamo solo che è posseduta da una qualche entità maligna ed è maligna, appunto, e basta. Nel libro si scopre che lei è posseduta dallo spirito del suo ex proprietario che era un pazzo omicida e quindi Dennis e anche lì devono fare queste indagini per scoprire quel passaggio, che è una cosa molto classica da film horror con il demone o il mostro o il fantasma che ti perseguita. Cioè, andare alle radici e scoprire qual è il motivo per cui è nata questa entità. Per cui nel romanzo Dennis aveva più spazio anche per quello perché gli si lasciava tutta questa sottotrama più e più detection mentre parallelamente Arnie sbroccava. Ok. Nel film hanno tagliato tutta questa parte cambiando proprio la natura stessa di Christine. Secondo me, e questo lo dice anche un po' il finale, nella speranza di avere una mitologia un po' più vaga e quindi nel caso in cui dovesse fosse andato bene il film fare un sequel. Ah, ok. Perché se no l'alternativa con il sequel sarebbe stata o un'altra macchina posseduta da un altro tizio oppure chi lo sa. Perché, cioè, spoiler alert, nel finale la compattano però di fatto non è che questo implichi che Christine è sconfitta perché Christine si può aggiustare da sola per cui cioè, comunque è apertissimo il finale a un sequel. Sì, sì. No, no, assolutamente. Scusa, sì, come dice Walter and Seal il primo e terzo atto sono andati in prima persona a Dennis a parte che si concentra su Arnie il punto è che le parti di Dennis nel libro sono più cicciose rispetto a come sono nel film perché fa delle cose in più fondamentalmente la differenza è quella cioè nel film comunque non sono nel film dedica veramente tanto spazio forse più alla macchina addirittura che ad Arnie perché Arnie anche lui ha una trasformazione un po' repentina mentre la macchina ha un arco perfettamente misurato nel corso di tutta la storia facciamo vedere un po' di facce intanto che parliamo di questa cosa per noi stiamo parlando ma in termini di supporti visivi dimmi c'è anche un interessante commento di Onana Jones che dice avete letto un bellissimo libro edito anni fa da Torino Film Festival su Capital c'è un saggio di Roberto Silvestri che sostiene questa interessante tesi secondo cui Cristina anticipa poeticamente Crash di Cronenberg nel destrutturale la supercord del reganismo sì secondo me questo discorso dell'età reganiana è interessante perché soprattutto è interessante vederlo raccontare e questa forse è la cosa più carpenteriana del film nel senso che è politicamente schierato e naturalmente associa perché poi allora la cosa interessante alla fine dell'epoca reganiana era questa questa idea per cui questo recupero un po' dell'America idealizzata degli anni 50 che viene traslata negli anni 80 no? naturalmente quello che ci sta dicendo Carpenter è che in realtà l'America degli anni 50 faceva schifo esattamente come l'America degli anni 80 perché effettivamente col seno di poi sappiamo bene che l'America che la visione ideale dell'America degli anni 50 era un'America totalmente bianca in cui tutti erano sì felici ma perché tutte le persone sei bianco perché tutte esatto tutte le persone che erano infelici e traumatizzate e come dire che non avevano gli stessi diritti eccetera erano tranquillamente tenute fuori dal quadro ecco esatto sì sì mi è capitato di rivedermi di rivedere alcune scene di happy days avevo avuto questa pazza idea a un certo punto quest'anno di rivedermi happy days e poi mi è stato sconsigliato mi è detto è invecchiato malissimo happy days e comunque mi è bastato vedere alcune scene in cui effettivamente sono tutti al fast food allegramente vestiti con i loro maglioncini legati sulle spalle che mangiano gli hamburger eccetera e sono tutti bianchi quindi c'è questa immagine effettivamente acchiacciante di un paese che è multiettrico ma che è ridotto soltanto a quella cosa lì perché tutto il resto non andava bene non era mostrato l'America di Reagan alla fine si rifà a questa immagine falsata diciamo del mito degli anni 50 americani e Carpenter nel film ci racconta ce l'ho destruttura effettivamente assolutamente è una grossa parodia satira proprio dell'ossessione statunitense per le macchine proprio della macchina non solo come mezzo di trasporto ma proprio come il tuo guscio esteriore come parte della tua identità alla fine c'è gli Stati Uniti che poi è una cosa che come dire non si sono inventati loro perché dall'altra parte dell'oceano anche noi in Europa facciamo le nostre macchine e gli davamo lo stesso portato simbolico però gli Stati Uniti oltre a essere appunto un impero culturale che ha plasmato poi tutto il novecento tutto il resto del mondo sono anche un popolo che è sempre stato come dire ossessionato dal viaggio e dai mezzi di trasporto perché si sono sempre spostati nella loro storia quindi prima era il cavallo poi il calesse le carovane poi è diventato il treno la macchina è un po' il terminale definitivo di questa roba perché è veloce è tua è proprietà privata e quindi diventa a quel punto una roba di cui non puoi più fare a meno quando esci di casa già solo come sono costruiti architettonicamente grossi pezzi dell'America a un certo punto in Christine si vede loro che sono in questo paesino che non credo non mi pare che venga nominato ma insomma è il solito paesino del cazzo classico dei romanzi di Stephen King che ha questa super strada a quattro corsie con un incrocio gigantesco otto semafori che l'ho vista cioè io comunque sto in un paese da più di 40.000 abitanti a due passi da Milano e la roba più grossa che ho sono le vie con due corsie questi nel paese da stronzoville nel nulla hanno questi enormi incroci è vero è tutto è tutto più grosso perché è tutto a misura di spostarsi in auto assolutamente e quindi questa roba qui un film in cui l'ho più sfigato di tutti nel momento in cui riesce finalmente a mettere le mani su una macchina figa che poi piace solo a lui e inspiegabilmente tutti gli altri dicono che fa schifo anche quando l'ha sistemata nonostante a me sembri fighissima ma quello forse perché anni a giocare a GTA mi fanno pensare che vedo una macchina del genere e la prima cosa che faccio è la faccio mia e la vabbè certo insomma facciamo vedere quel gran pezzo della macchina della Christine Christine quando nel 57 o 58 non è chiaro 57 eh 57 però viene presentata come una plimut del 58 eh però all'inizio all'inizio c'è proprio la l'inizio di 57 forse è stata fatta nel 57 ma venduta nel 58 esatto sì 56 perché sì sì all'inizio abbiamo detto che appunto il film non è tra i migliori di Carpenter però ci sono tante cose interessanti dentro nonostante nonostante non vorrei dire che non è tra i migliori poi sembrasse una critica o un modo che io sono perfettamente d'accordo con te perché è esattamente quello che penso cioè non è tra i migliori di Carpenter però pur essendo un film su commissione è pieno di idee interessantissime eh proprio alla Carpenter che ad esempio già il fatto che lui ha voluto modificare eh l'idea che non ci fosse uno spirito demoniaco di una persona che è veramente esistita che ha preso possesso della macchina ma lui ci dice che la macchina è malvagia perché è stata creata nel 1957 in una catena di montaggio fordista cioè la macchina è malvagia è malvagia perché il male nasce nel 1957 in America cioè gli anni 50 americani come dicevamo prima sono il seme del male punto e basta e infatti che non muoiono mai e non muoiono mai cioè prima la scena finale in cui la continuano a schiacciare esatto la scena finale in cui la continuano a schiacciare e c'è questa musica rock and roll che va e la macchina si riforma mano a mano che viene schiacciata cioè comunque è un incubo senza fine che uno dice guarda hanno voluto fare questa cosa anche per lasciarsi la possibilità di un sequel sì ma anche per mantenere viva l'idea originale che questo è un male che non lo distruggi perché te lo porti dietro cioè il film finisce con una ragazza giovane di 20 anni che dice I hate rock and roll cioè è una delle immagini più più assurde che tu possa vedere una giovane ragazza che dice io odio il rock and roll e sul rock and roll diciamo anche qui l'idea geniale di ogni volta che la macchina appunto è una playmout del Fury del 57 quindi l'estetica è pur anni 50 proprio uno dei simboli anche il colore rosso così fiammeggiante proprio le fiamme fa questa macchina solo a guardarla prende fuoco ed è proprio come diceva prima giustamente George cioè è una delle immagini del del cosa della strafottenza dell'arroganza reganiana questa macchina qui e ogni volta che questa macchina comunica in qualche modo è tramite un autoradio che è settata unicamente sulla musica anni 50 rock and roll alla happy days e qui c'è l'idea geniale di carpenter che ogni volta che questa qua entra in azione per uccidere qualcuno lì la musica che parte se uno ascolta le parole della canzone che viene scelta e guarda la scena è una figata perché per esempio quando c'è la macchina che cerca di uccidere la fidanzata di Arnie e blocca le portiere della macchina e Arnie fa così da fuori batte i pugni sullo sportello per cercare di entrare e fermarla lì parte che pannocchina che incamenta che pannocchina che pannocchina che dice tu continua a bussare ma non puoi entrare quindi c'è questo continuo contrapunto che crea questo contrasto grottesco ma assolutamente segnale è pieno di scene così tutte le volte che la macchina entra in azione c'è un commento musicale che si ascolti quello che dice la canzone e vedi quello che sta succedendo crea un'immagine grottesca quindi io queste cose qua sono i dettagli per i quali io difenderò sempre questo film perché ha delle idee troppo fighe tra l'altro qual è un'altra macchina sensiente che comunica utilizzando l'autoradio ai testi delle canzoni bumblebeam transformers quindi tutto esatto effettivamente è quello che me l'ha fatto di dire in mente eh vedi tu hai detto che è di un rosso che praticamente prende fuoco io posso fare di meglio bravo regalarti effettivamente beh per non dire che anche quando Arni diventa Ivol Arni il suo il rosso che è il giumbotto anzi scusate aggiungo la M perché suona meglio il giumbotto che porta James Dean in Gioventù Bruciata però è comunque lo stesso colore la stessa paletta sì sì ma infatti anche anche il fatto che lui diventi evil che diventi cattivo lui all'inizio è uno sfigato con l'unico amico che ha è Dennis o Tennis non mi ricordo come si chiama Dennis Tennis si si chiama si chiama Tennis vabbè Dennis Dennis Laminato Tennis la minaccia poi piano piano si affeziona a cosa a un oggetto a un simbolo del consumismo del guarda che se hai questo e lo tieni su questo diventa stato sociale no tu diventi è un simbolo per diventare infatti poi dopo vedrai che tutti ti rispetteranno e arriva anche la figa in un certo senso capito poi non solo nel senso è una storia di Stephen King le preoccupazioni sono quelle non ci ha mai girato intorno i ragazzini vogliono scopare però è raccontato bene ti fa vedere proprio è una satira come giustamente dicevamo non solo arriva la figa ma arriva la più la più bramata di tutto il liceo cioè quello che quando lui quando quando Tennis vede lui che limona con lei dice ma come al punto tale che fa un incidente e va in ospedale per quanto sbarelle Tennis in quella scena lì dice proprio se leggete il labiale dice proprio ma cosa ma cosa vogliamo presentarli questi nostri amici che adesso ne stiamo parlando senza mostrare i volti innanzitutto vi faccio notare che loro ci vengono presentati sempre comunque da dietro al cruscotto di uno macchino qua è la prima volta che li vediamo quello a sinistra è il nostro Arnie che è Keith Gordon cioè uno che poi non ha fatto una gran carriera dopo Christine ha fatto ruolini qui e là scopro adesso che ha fatto un sacco di puntate di Dexter quindi vuol dire che l'ho visto ma non ti sa no no è regista anche lui lui a un certo punto ah directing hai ragione sì 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 sia anche come come piccoli ruoli però tendenzialmente lui si è fatto una carriera da regista di serie tv ha diretto gli episodi di un botto di roba ah vedi è bravo lui qua lo vediamo nella sua nel massimo della sfiga che essendo comunque questi anni viene rappresentata da l'occhiale con la montatura un po' troppo spessa la pettinatura forse un po' più anziana di quello che dovrebbe ma soprattutto questo bell'abbigliamento grigino fatto di colletti con sopracolletti tutti perfettamente abbottonati fino all'ultimo bottone mentre il suo amico che è un ex giocatore di football è un po' più figo comunque è in tuta già la maglietta lui tra l'altro lui l'avrete riconosciuto soprattutto se seguite il calcio italiano lui è proprio lui è Mario Pasalic dell'Atalanta qua nel ruolo appunto dell'amico di Arni è nel ruolo di Arni cioè non sono riuscito forse a beccare la foto perfetta ma vi assicuro che se conoscete se li conoscete entrambi farete fatica a seguire il film e nel ruolo di Arni lì c'è Valerio Lundini è uguale cioè qui sta proprio parlando con la sua remoscia è un'ottima accoppiata a un certo punto comunque Arni ha anche la cosa più distintiva del nerd di quell'epoca cioè l'occhiale rotto è vero l'occhiale rotto è vero c'è l'occhiale rotto con il nastro adesivo ecco qua i bulli qua vedete in particolare a destra il capo dei bulli che ha 47 anni dall'età ma anche gli altri due posso dire posso dire che sembra uscito pur essendo ambientato nel 78 e fine dell'83 quindi è perfetto sembra uscito da un gruppo thrash metal californiano è vero tantissimo sì 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 come d'altra parte quello al centro è Aldo Baglio con la parrucca quando faceva quando faceva cosa? Rolando quando faceva Rolando è lui è lui è clamorosamente lui io qua mi permetto vedi non sono l'unico in centro c'è Rolando il grande Johnny tra l'altro io vorrei ma l'altro c'è che aspetta ti prego rimetti la foto è vero è vero quell'altro Ceccherini a recuperare rimetti la porca miseria mannaggia la miseria è Ceccherini è Ceccherini il lucignolo è Ceccherini il lucignolo quando fa lucignolo quindi questo per dire no tra l'altro questa foto il fatto che siano Ceccherini il bassista degli Armored Saint Rolando mi fa dire che Stephen King ha sempre messo i bulli nei suoi libri Stephen King ha avuto un sacco di problemi che i bulli nella sua vita sono una delle cose che lo torturano e lo perseguitano da sempre ha inventato alcuni bulli di altissimo livello secondo me i bulli di Christine sono un po' uno dei punti deboli che dicevamo del film nel senso che sono veramente dei bulli da operetta e volendolo sono anche i bulli di It però i bulli di It hanno 13 anni e quindi sono dei bambini che fanno cose esagerate da adulti perché stanno facendo le prove per diventare adulti e quindi è passabile questo no cioè nel senso questi fanno veramente i dispettini super esagerati non hanno cioè non hanno un senso esistenziale al di là del fatto di essere bulli e io non so quale sia il vostro rapporto nella vostra vita con i bulli io ho avuto un sacco di esperienze di bullismo da piccolo e i bulli non sono mai così cioè non è mai quello che haha sono cattivo punto cioè il bullo ha sempre un motivo per essere bullo e i bulli di Stephen King di solito ce l'hanno anche solo che sia una stronzissima motivazione psicoanalitica del tipo il padre lo maltrattava e quindi lui maltratta gli altri però ci sono questi sono proprio messi qui per dare carne da macello e poi non c'è tempo se vogliamo c'è un abbonamento e poi proseguirò con questo sì hai ragione grazie a Billy Balrog ti facciamo le cornine del metallo Billy perché so che tu apprezzi ti facciamo ringraziare con un approccio scientifico dalla nostra amica Kristen che sta studiando la validazione del tuo abbonamento e se si dovesse verificare valido ti spedirà a casa una coppia di Personal Shopper in DVD il suo film per il tuo interesse non è anche in blu-ray in DVD sì prego sì non mi ricordo cosa stavo dicendo no io volevo dire che sono d'accordo con te però devo anche confessarti che quella è una delle mie scene che preferisco perché mi diverte cioè se non altro mi diverte e all'interno del film ci sono dei momenti invece un po' più morti invece quella scena lì iniziale poi sarà che di questi tempi io quando vedo un film che mi fa vedere il bullismo degli anni 80 come era esattamente in quegli anni anziché ovattarlo e far vedere un mondo magico in questi anni di nostalgia di un periodo di merda per me è tutto oro per me è tutto capito è tutto grasso che cola però hai ragione Stanlio hai perfettamente ragione ed è uno dei punti deboli soprattutto se pensiamo che il film dura due ore e si dimentica di caratterizzare quei bulli hai capito non trovo il tempo di dare una caratterizzazione secondo me scusa Giorgio questa cosa spicca di più perché comunque alla fine tutta la parte liceale la parte adolescenziale del film è forse quella che curiosamente è venuta meglio perché alla fine come horror non è un film che faccia granché paura non è un film particolarmente violento per la media di Carpenter in generale non è cioè le parti più probabilmente horror di questo horror sono comunque la maggior parte non tutte meno interessanti e curiose rispetto a quelle proprio da team movie classico che non ti aspetteresti mai Carpenter infatti gliel'ha andato già fatto così però riesce a fare secondo me in un modo incredibilmente efficace che veramente è l'ultima cosa che sì sì ma no non è vero dai Halloween già aveva fatto vedere che comunque sapeva trattare però insomma lì è proprio cioè sapeva trattare gli adolescenti qua tratta gli adolescenti in un contesto di amorazzi adolescenziali e di high school ma poi secondo me è anche interessante poi ti lascio la parola Giorgia è anche interessante secondo me e forse anche lì ora che mi ci fai pensare andava lavorato un po' meglio il rapporto tra Arnie e i suoi genitori anche quelli forse sono un po' troppo macchietta molto Stephen King anche loro come personaggi ma secondo me un altro adesso poi dopo vi lascio dire ma un altro forse grosso problema di questo film è che non lo so io quanto è costato questo film ma non sembra un film dal grosso budget perché poi si vede una scena tu guardi un film così e vuoi vedere tu sei lì che aspetti di vedere la macchina che a un certo punto fa qualcosa anche solo banalmente viene distrutta e poi si ricrea per farti capire che c'ha c'ha qualcosa di magico c'ha qualcosa di demoniaco dentro e alla fine c'è una scena così esatto che è pure bella però vabbè anche alla fine dai beh però alla fine alla fine viene un po' distrutta poi va nell'ombra e poi torna di nuovo intatta capito comunque uno vuole andare al cinema e vede un film di Carpenter si aspetterebbe più scene dove questa qua vedi le lamiere che si contorcano e questa si rimette a punto cose di questo tipo alla fine però ce n'è una Giorgia mi vengo a dire in due ore di film me ne metti una quanti soldi effettivamente ti hanno dato per poter fare al meglio quello che poi è il tuo cinema al meglio vai vai che volevi dire qualcosa se non sbaglio io volevo dire che allora sì è vero che il film dura quasi due ore però non c'è tantissimo tempo per approfondire i bulli perché ci sono altre cose da raccontare ma soprattutto e questa era una riflessione che ho letto oggi insomma leggendo un po' di cose su Christine quindi non è non l'ho partorita io però l'ho trovata molto interessante sul fatto che fa la tua la faccio mia la faccio mia sì fa la tua è mia è mia questa qua sì 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 non la devo nessun altro no che che Christine è effettivamente il punto d'incontro tra da un lato un autore come Stephen King che è bulimico logorroico stracolmo di dettagli e divagazioni eccetera i suoi romanzi sono fatti così e dall'altra uno dei registi più dritti e assolutamente essenziali che siano mai usciti dall'America quindi cioè sembra un punto d'incontro assurdo tra due tra due personalità che hanno tanti tratti in comune perché hanno tante ossessioni in comune però hanno due stili che sono proprio agli antipodi quindi effettivamente non ci sarà mai cioè se molto spesso ci si lamenta del fatto che gli adattamenti cinematografici di Stephen King cioè perlomeno anche questo è il mio punto di vista gli adattamenti cinematografici di Stephen King che si ostinano ad adattare romanzi di 800 pagine scritti così e quindi devono tagliare un botto di roba e tanto spesso non vengono bene per questa ragione perché snaturano completamente quello che rende figo i romanzi i romanzi di Stephen King e quindi magari i adattamenti migliori di Stephen King sono quelli tratti dalle novelle di Stephen King o le miniserie le serie televisive che adattano King in dettaglio e funzionano meglio però se il problema appunto è che tanti film tratti da Stephen King tagliano troppa roba cioè qui hai proprio quello hai proprio il regista che non può fare a meno di tagliare un sacco di roba perché la sua natura stessa è quella di raccontarti veramente il minimo indispensabile il solo fatto che abbia tolto tutto il retroscena della maledizione di Christine per renderla una cosa mitica mitologica e universale in questa maniera qua cioè è malvagia già all'inizio punto no per togliere tutta la ciccia e arrivare al dunque cioè quello è puro Stephen King effettivamente ed è assurdo ed è assurdo che è puro Carpenter volevi dire è puro Carpenter sì ed è assurdo che ci troviamo di fronte proprio all'incontro tra due poli opposti e da questo probabilmente nasce il fatto che alcune robe a Carpenter non mi interessa proprio raccontartele a questo punto cioè oh ci sono i bulli punto cioè sono bulli basta sì 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 anzi quando te li introduce ti fa vedere Buddy che è proprio un figlio di puttana terrificante che probabilmente sì dietro ci avrà dei traumi terribili però questo non significa che non sia un figlio di puttana e quindi l'unica cosa che ha è un'aggressività esagerata che lo porta a essere un bullo questo è quello che ti serve sapere poi detto questo volevo solo dire che Buddy entra nella storia insieme a Charlie Sterling in Prometheus per essere una persona che non riesce a capire che per scappare da una cosa che ti sta venendo dietro magari devi correre in diagonale soprattutto quando si tratta di una macchina che ti stai seguendo su una strada che è circondata da dei campi corri nei campi all'ombra magari magari ti becca lo stesso però fa un po' più fettica ecco invece lì muore in questa maniera stupida sì volevo dire non so ho pensato esattamente la stessa cosa ormai dannato Ridley Scott ci ha rovinato per sempre lo scappare dalle cose esatto The Prometheus School of Running Away esatto volevo dire due cose la prima rapidamente in risposta a Giampiero così diciamo una cosa importante cioè tu dici come la cosa con la Mire Bulloni non a caso gli effetti speciali sono di Roy Arbogast che è lo stesso che aveva lavorato sulla cosa e che aveva tra l'altro credo vinto l'Oscar per incontri avvicinati del terzo tipo quindi insomma era uno però la cosa ha collaborato non era Robottin però aveva lavorato Robottin 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 per noi si chiama Robottin dai tempi dell'Ululato si dice veramente Bottin tra l'altro quindi è Robottin sì sì per me è un androide veneto lui si occupa di effetti speciali bellissimi la cosa la cosa che dici tu sui Bulli secondo me si vede ancora meglio su tutta quella pletora di personaggi di contorno che sono quelli che Stephen King si diverte un sacco a creare e che sono quelli che funzionano anche meglio al cinema perché sono fatti apposta anche nei film per essere caratterizzati con un tocco e basta esempio Principe vediamo se lo trovo perché gli screenshot sono tutti dannatamente scuri e lui esempio il nostro amico il proprietario del garage interpretato da Robert Prosky che è un attore era un attore famoso che magari ricorderete in Last Action Hero e lui quello deve fare cioè il proprietario del garage che gira sempre armato perché è proprietario di un garage già per me il fatto che quel garage sia un posto in cui lui affitta gli spazi e gli strumenti perché la gente vada a ripararsi le macchine da sola cioè wow che figa non si può neanche che esistesse questa cosa poi mi sono preso conto che erano gli Stati Uniti d'America e quindi può che esistere questa roba del co-working qui ci sono i posti dove ti puoi fare l'orto no? il condiviso no? e lì ti fai c'è il tuo esatto invece ti ripari le macchine un altro personaggio clamoroso così è lui il fratello lui è fighissimo non mi ricordo come si chiama l'assassino il vecchino di mamma perso l'aereo il vecchino di mamma perso l'aereo qua lo vedete a 30 anni sì però vedi è figo è figo anche come viene usato quel personaggio non per mettere in guardia che la macchina potrebbe essere posseduta dallo spirito del fratello ma per dirti che anche suo fratello è impazzito esattamente quindi potrebbe come si chiama è un flash forward no non è la parola italiana che sostituisce non mi viene in mente ma è comunque un'anticipazione di tutto di quello che sarà la parabola di Arnie perché gli dice esattamente è lo spazio è lo spazio è lo spazio nel momento clou Arnie dirà esattamente la frase che il vecchio gli aveva detto a proposito di suo fratello cioè nessuno si mette no shitter perché usano questa parola non so dall'uscita nessuno nessuno stronzo si metterà mai in mezzo tra me e Christine quindi c'è c'è proprio tutto quanto scritto sin dall'inizio certo perché poi la cosa che fa la cosa la trovano qua vedete è un po' sessuale Valundini quanto è contento per la trovare ma che poi a me la cosa che mi fa sorridere di questo film è che mentre lo guardi avanti fortissimo flash forward esatto esatto grazie era quello che volevo ma per caso la parola che cercavi era monito o no? no era qualcosa con lessi alla fine non lessi il cane come nel tuo pezzo Staglio che mi ha fatto molto ridere stamattina ho visto che non è stato non è analessi prolessi non è prolasso non è prolasso è prolessi prolessi che non è un movimento a favore di lessi e buttiamo benzina sul fuoco e poi succede questo quando butti benzina sul fuoco succede questo esatto Staglio mi rimetti un attimo alla foto di Lundini che scopre Christine perché volevo volevo fare un commento allora la cosa che a me mi fa sorridere di questo film è che se non fosse per il fatto che poi le cose vanno in vacca perché sta macchina è il male tutto quanto però è un film che se lo prendi se lo prendi come la storia di un ragazzo che scopre di avere la passione per i motori e di fatto è una puntata di Pimp My Ride ma che finisce male io mentre lo guardavo pensavo ma perché la gente gli rompe i coglioni a sto ragazzo sto ragazzo studia va bene a scuola non dà fastidio a nessuno e la sera invece di andare a drogarsi va in un garage a sistemare una macchina che era ridotta a un catorcio lavora duro cioè rimette a posto una macchina che era ridotta a un catorcio la rimette in sesto sconfigge la sua miopia non ha più bisogno degli occhiali a un certo punto come Spiderman si comincia a vestirsi meglio comincia anche davvero la morosina ma che cazzo volete ma non lasciate un sogno americano una foto di Ivo Larni che vedi vedi qua per esempio qua è già Ivo qua è quando va a trovare Dennis in ospedale si vede il piede di Dennis e qua lo vedi non ha più gli occhiali anche la postura è diversa lui proprio a me una delle scene che mi hanno fatto più impazzire che non ricordavo è quando Christine si rimette in piedi e è di nuovo bella nuova fiammante tutta questa roba c'ha sotto un sessofono da film porno clamoroso è tutto girato lentissimo con la macchina che gira intorno alla macchina con grazie cioè è proprio veramente girato da porno si beh con Armi e quello è l'apice del momento Cronenberg in cui tu ti fermi e dici aspetta questo però è Carpenter non è Cronenberg che spero io quando ero piccolo li confondevo perché hanno il cognome simile e tu guardi questa roba con la macchina trattata veramente come un corpo sensuale spinto all'estrema alla parodia e pensi ma siamo sicuri che sia proprio quella è effettivamente una scena e lì se ascolti quello che la canzone dice è fighissimo che proprio è come se la canzone è come se è una lettera d'amore è una donna però di fatto è una macchina Cronenberg o Cronenberg io scusate io propongo Cronenberg perché è la nuova Cronenberg bello bello facciamo vedere altre facce da questo bel film comunque anche di facce perché c'è purtroppo in un ruolo minore e me fa sempre Cronenberg la nuova carne e il formaggio bel gorgonzola che è Harry Stanton che è una delle mie era poverino una delle mie persone preferite del mondo lui è proprio uno che quando compare in un film mi fa felice poi era un tipo strano molto artistico faceva anche un sacco di cose extra cinema era un bel tipo un bel carattere che comunque quando compare già ti fa fare un salto in avanti al film sì sì sono d'accordo e poi vi facciamo vedere anche lo gesto per vedere una cosa bruttissima tipo l'oggetto del contendere la persona che sta al centro di questa competizione sentimentale tra i nostri due protagonisti che non è lei Hermione Granger la giovane Emma Watson che poverina fa il ruolo di quella che vorrebbe tantissimo farsi Dennis ma Dennis non se la caga per nessun motivo e lei non se la fa con nessuno lei si vede solo in quei piccoli ruoli che lì e basta mentre invece ad attirare l'attenzione dei nostri è lei è lì la giovane Alexandra Paul che voi mi avete prima ricordato che tutti cioè voi che conoscete questa serie tv ve la ricorderete per il ruolo di Stephanie in Baywatch esattamente qua era agli esordi che si nel suo primissimo film tutta parte Carpenter è sempre stato bravo scusa posso alzare il commento di Johnny Totoro grazie grazie Johnny ecco abbiamo anche una citazione da Matthew Perry quindi facciamo anche un saluto a Matthew Perry questa me la ricordavo questa cit grande sblog corrono e corrono spesso ma corrono sì corrono spesso e niente che cos'altro abbiamo una foto della povera lì quando rischia di diventare una delle vittime di Christine che poi alla fine a conti fatti non è che faccia tutta sta strage cioè lei a fare la prima persona gli spacca solo una mano in fabbrica proprio e quello è proprio un dispettino che ti fa capire che lei è cattiva e basta la seconda persona è il tizio che le spegne il sigaro sul sedile e onestamente lì non so neanche se è una cosa normale corretta l'agreazione corretta da avere non riesce a uccidere la povera lì uccide un bullo schiacciandolo al muro del garage e un altro investendolo in fiamme e un altro ancora tagliando facendolo saltare in aria col distributore esatto quindi mi sembra che tutto sommato i genitori non debbano rompere il cazzo dai poteva andare peggio posso dire che comunque nessuno dei bulli brilla per intelligenza oltre a batti che corre dritto perché cosa ti aspettavi quello che viene schiacciato davanti alla porta del garage avrebbe tranquillamente potuto camminare sul cofano e liberarsi perché comunque la macchina ci mette un po' a entrare in quella strettoia perché deve comunque perde dei pezzi ai lati quindi non è proprio che ci arriva in corsa io mentre guardavo quella scena lo so ma cosa cazzo stai facendo ma tutti ma perché quello là salti sul cofano esatto ma perché quello alla pompa di benzina che praticamente si mette lì ad aspettarla dai ammazzami vai contro la mia macchina fai esplodere tutto cioè no no sì ma sì non sono bravissimi questi bulli non sono bravissimi questi bulli si vedono tutti 45 anni di quello più anziano era prima povero povero buddy guardalo qua bravissimo lui tra l'altro sta a suonare anche il fretless è così bravo esatto gli stava distruggendo lo yogurt cattivissimo sì è una cosa bellissima perché comunque il mondo di riferimento è quello alla fine è un film a cui manca secondo me qualsiasi tipo di respiro epico cioè è proprio una storia piccina di un singolo oggetto maledetto che crea confusione in una piccola bolla cioè neanche come dire all'interno dello stesso paese la gente sa che c'è la macchina assassina è proprio una roba che rimane è una roba semplice come a Stephen King ha sempre piaciuto è talmente una è talmente una storia piccola che pure alla fine quando dopo il terzo atto nell'officina si risolve tutto però comunque muore Arnie una macchina viene viene compattata perché comunque è una macchina assassina e poi entra in scena Henry V. Stanton guarda i due veloci e dice beh siete degli eroi adesso ma in che senso cioè cos'è successo in mezzo cioè com'è possibile che questi sono scagionati da qualsiasi cosa cioè il poliziotto è arrivato e ha detto eh no sì era una macchina era una macchina è vero è vero no scusa eh sono quegli altri sono quei momenti sono quei momenti in cui dici eh forse questo film l'hanno fatto su commissione mi sa che non era molto sentito è vero è la stessa cosa che ho pensato anch'io no sì stronzata ma d'altra parte queste sono le cose che soprattutto all'inizio venivano sempre un po' rimpoverate a Stephen King è sempre stato detto che comunque non sapeva chiudere bene i libri che i finali erano sempre la parte peggiore che spesso prendeva delle scorciatoie cioè comunque Stephen King è uno che ha applicato sempre la rule of cool alla costruzione di qualsiasi narrazione cioè se una cosa è figa non me ne frega niente se non ha senso io ce la devo mettere dentro e dirò di più secondo me col passare degli anni l'invecchiare l'esperienza cominciare ad assorbire anche le cose le critiche le cose che gli dicono da fuori eccetera ha cominciato a lavorare sempre di più a questi dettagli a stare sempre più attento a fare cose come dire logicamente più inattaccabili a creare dei finali più curati a non avere questi salti di immaginazione e i libri sono peggiorati purtroppo perché prima ci metteva le cose fighe voglio dire la torre nera tutta la saga della torre nera è l'apoteosi della rule of cool c'è qualcosa che ha senso assolutamente no mi vengono in mente delle immagini fighe e trovo il modo di darle più o meno un collegamento e arrivare da un punto A a un punto B però in mezzo di immagini fighe e non tutti ti ricordavo che non li avevi lette no no non li ho finiti perché sono pur essendo il fan numero uno di Stephen King a me non mi piacciono cioè capisco lo spirito che c'è dietro ma secondo me sono scritti veramente fin troppo con l'atteggiamento del guarda quanto sono cioè ci provano un po' troppo duro e quindi alla fine mi risultano veramente un po' stucchevoli cioè nel momento in cui si stacca completamente da qualsiasi parvenza di realtà e lascia andare così tanto la fantasia secondo me lì avrebbe bisogno un pochino più di un qualche freno stilistico soprattutto e quindi alla fine mi sono sempre un po' stufato a leggerli però comunque Terrence citano Futurama attenzione potrebbe essere il momento sì direi che potrebbe essere il momento di di ricordare una delle parodie più delle parodie migliori meglio realizzate di questo di questo film di questo romanzo che appunto la puntata di Futurama della seconda stagione se non sbaglio perché poi in America hanno una catalogazione noi ne abbiamo un'altra insomma comunque se avete Disney Plus la potete recuperare tranquillamente si chiama The Honking la puntata che io quando ero aspetta perché è clamoroso allora io quando ero piccolo che lo vedevo avevo capito che era la parodia di Christine ma non avevo il briciolo di cultura cinematografica che ho adesso per rendermi conto che in realtà è un crossover tra Christine un lupo mannaro americano a Londra The Honking Lululato e anche La Macchina Nera che era un film del 1977 dove la trama era di questa macchina senza guidatore che faceva una strage e io rivedendola mi sono detto ma questi erano dei geni cioè in 20 minuti sono riusciti a fare un frullato totale di parodia e poi eccolo qua questo è Bender che si trasforma nella nella macchina mannara perché appunto la drama è che Bender cioè c'è anche un inizio da romanzo gotico con un altro topos del romanzo gotico che è Bender eredita un castello tipo alla Dracula in un paesino tipo della Transilvania quindi con il villaggio con il villaggio con il castello che sta e il villaggio ai piedi del castello con i ragazzi con i tisti del villaggio che gli dicono non andare non andare lì ed è una gag dietro l'altra geniale geniale una dietro l'altra inizia così è bellissimo anche qui se riesci se riesci a leggere questo vuol dire che ti sono venuto sopra e lì in questo castello lui viene viene investito da una macchina che e quindi si prende il morbo del male di trasformarsi anche lui in macchina quando c'è la luna piena quindi quando poi torna in America torna a New York di notte si trasforma ed è la trama di un lupo manaro americano a Londra cioè è proprio quella è quella trama lì e si chiama The Honking perché honk è il rumore che fa il claxon per poi rifare il gioco di parole con The Honing che è il titolo del film a cui aveva collaborato il nostro amico Rob Bottin appunto e io ve la straconsiglio non so se voi se voi cosa? quanti cerchi che si chiudono siamo assolutamente quanti cerchioni io non so se voi non so se voi ve la siete riguardata o se ve la ricordate quella puntata non me la sono riguardata non me la sono riguardata ma me la ricordo io penso che sia una roba troppo geniale era veramente figa come io Futurama l'ho rivisto tutto quando l'avevano messo su Prime prima ancora che arrivasse su Disney Plus l'avevano messo su Prime Video e siccome mi mancavano le ultime stagioni a un certo punto l'avevo mollato così ho detto adesso me lo vedo tutto me lo sono guardato io per colpa di questa puntata ho fatto partire il rewatch in questi giorni perché mi sono accorto che non ho ancora guardato la nuovissima stagione che è uscita quest'anno io sto facendo fatica sì però non ho avuto ancora il coraggio perché ho molta paura però adesso brutta però è come l'ultima stagione di Boris ah ok la cosa sì ok ok superflua comunque grandi che avete citato Futurama prima che lo tirassimo fuori noi perché quella parodia è veramente un sacco riuscita comunque invece Giorgio io ti volevo volevo dirti che è molto interessante quello che hai detto prima riguardo al fatto che questo incontro tra King e Carpenter in realtà per quanto sia bello è una cosa che vede due personalità completamente all'opposto nel fare l'adattamento di una cosa del genere e mi chiedo come al tempo chissà come avevano lo vedevano al tempo questo incontro perché parlando di pesi massimi nell'ambito dell'horror uno dice cazzo in quell'anno lì da una parte c'avevamo David Cronenberg e dall'altra c'avevamo Carpenter che si apprestavano ad adattare un altro peso massimo dell'horror sulla carta stampata quindi e chissà al tempo come l'avevano visto cioè perché sulla carta però Kubrick non era un regista horror era un grande regista però non era un regista horror capito invece dici oh dei masters of horror che adattano per la prima volta un altro masters of horror in un'altra in un'altra categoria mi domando quanto hype ci fosse al tempo tra gli appassionati perché sulla carta se io ti dico guarda se io ti dico in termini astratti sulla carta romanzo di Stephen King però adattamento lo fa John Carpenter dici ma qui capolavoro totale oggi se te lo dico nel 2023 con Carpenter che gli cerca di più giocare ai videogiochi e dirige gli attori dal divano di casa su Zoom e dall'altra parte gli adattamenti dei romanzi di King sono variano dall'improponibile all'orribile al al dimenticabile al ok fai il tuo oggi magari dici Carpenter che fa l'adattamento dici ok speriamo bene ma non c'è tutto sto hype al tempo mi viene da dire che forse era più sentita la cosa sono io che idealizzo non so cosa ne pensate voi no no stavo perché stavo ricontrollando perché è curioso che dopo appunto quell'anno in cui hanno preso i due maestri a fare due King poi devono passare tipo altri dieci anni prima di vedere un altro regista horror che fa perché adesso stavo scorrendo rapidamente la cosa ma nel senso dopo Carpenter e Cronenberg ci sono stati appunto Mark Lester che era regista di commando poi Rob Reiner Starsky di Starsky Hatch che aveva fatto come si chiama The Running Man l'implacabile quello cioè il primo regista prima di arrivare alla metà oscura è Romero è ok nel 92 Brett Leonard che aveva fatto il tagliaerbe però il tagliaerbe è un mezzo un mezzo King e Brett Leonard comunque era un semi esordiente cioè ha fatto un film prima di quello che era un horror ma non era un grande regista cioè King è sempre stato adattato fino a un certo punto da registi molto più spesso da registi che facevano tutt'altro poi ovviamente ogni tanto ne trovi qualcuno cioè Tobey Hooper eh ma infatti prima del tagliaerbe non c'è stato The Mangler di Tobey Hooper The Mangler è dopo è del 92 però lui c'era già stato con Le Notti di Salem che era televisivo più però sì cioè negli anni 70 aveva fatto Le Notti di Salem non era la prima volta se vai a vedere la proporzione tra quanti no è vero i registi di King hanno un passato e una carriera soprattutto nell'oro e quanti no sono molto i più secondi sì 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 assolutamente e amici siamo già verso l'ora e 20 quindi domanda numero uno abbiamo cose ancora da dire che non abbiamo detto? ma io volevo solo dire una cosa sul fatto che abbiamo accennato prima che la colonna sonora è estremamente curata e anche lì emerge Carpenter nel senso che al di là comunque dei suoi sintoni che insomma con la colonna sonora con Alan Howard che si sente che è fatta da lui c'è tanta cura anche proprio per tutto il discorso della scelta delle canzoni e soprattutto una cosa molto carina è all'inizio che si apre con Not Fade Away di Buddy Holly che praticamente si trasforma in una cover di Not Fade Away degli anni 70 giusto per e usa proprio la musica per farti percepire non solo il passaggio del tempo tra il prologo e il resto della vicenda ma anche l'inevitabile collegamento ideale che fa tra gli anni 50 e la storia di Christine insomma che è molto bella che è molto bella cioè lì proprio vedi emerge Carpenter e la sua capacità di usare la musica per non parlare di Bad to the Bone sparata all'inizio e alla fine quando viene forgiata mi è venuta in mente un'ultimissima cosa che volevo dire che mi è venuta in mente adesso che parlavamo di quanti registi che poi effettivamente provenienti dall'horror hanno adattato King io volevo allacciarmi con il pezzo che avevi scritto tu George riguardo a Strange Their Things che uno dei registi che magari era più adatto ad adattare King era Steven Spielberg che è un po' il matrimonio che non abbiamo mai avuto al cinema cioè Spielberg che adatta un libro di King sono molto d'accordo con quell'analisi che avevi fatto cioè è incredibile che non sia mai successa quella roba lì perché effettivamente tra tutti gli incontri tra pezzi grossi del cinema e pezzi grossi della letteratura cioè io quando ho letto It pensavo cioè questa è veramente la stessa poetica della nostalgia di Spielberg e sarebbe stato clamoroso probabilmente assolutamente e boh e non è mai successo forse ha prodotto qualcosa forse ha prodotto Spielberg forse forse c'è della roba Envy forse c'era qualcosa può darsi aspetta scopriamolo io sento un rumore strano tipo scarto di caramelle Staglio stai scartando una caramella? no giuro che non sto scartando una caramella no allora non è stand by me il microfono di qualcuno è posseduto dallo spirito di uno che scartava la caramella no quella di King e Spielberg hanno mai fatto qualcosa no effettivamente non hanno mai fatto nulla però ah vedi leggo per esempio che Spielberg ha convertito a King per chiedergli di scrivere la sceneggiatura di Poltergeist ah ok non se ne fece più nulla è una cosa bellissima questa e voi sapete perché sì il talismano comunque è prodotto dalla Envy credo cercando Stephen King Envy mi esce solo il talismano però magari non lo so comunque va bene poi cosa vogliamo vogliamo dire alto vogliamo passare al momento clou della serata vogliamo fare il gioco che coinvolge anche i nostri ascoltatori da casa e anche volendo potrebbe coinvolgere anche chi ci segue indifferita perché noi non siamo indifferenti alla differita e cioè miglior adattamento di King al cinema e poi miglior film di Carpenter dai facciamo la dubbia stasera si parla di tutte le mie cose preferite devi dirmelo prima che mi preparavo le risposte hai ragione ah ma dobbiamo rispondere anche noi io pensavo io pensavo che fosse soltanto per loro dobbiamo rispondere anche noi cazzo non riesco neanche a leggerlo Paul è una neanche presenza a Stazioni Terme allora mentre voi non avete il coraggio Gian Piero dice Carrie per il miglior adattamento il grosso guaio Chinatown per il miglior Carpenter allora beh il miglior Carpenter io ti rispondo senza proprio dubbio alcuno grazie al fatto che non ho davanti la filmografia di Carpenter e quindi posso permettermi un po' di amnesia selettiva però ti rispondo la cosa cioè perlomeno è quello che io amo di più dei suoi film poi naturalmente se guardo la filmografia impazzisco però ti dico la cosa per quanto riguarda King io beh sicuramente c'è un sacco di roba bella però sono d'accordo su Carrie insomma cioè è difficile dire di no però mi viene da dire The Mist che bello a me The Mist piace molto proprio perché tra l'altro risponde proprio a quella teoria che dicevo prima che mi sa che ho espresso anche nella sceneggiatura nella recensione di The Mist che scrissi mille anni fa è il fatto che i migliori adattamenti al cinema di Stephen King forse sono quelli che vengono dalle novelle perché le novelle sono di 200 pagine tendenzialmente e quindi sono adattabilissime in un testo di 120 pagine come la sceneggiatura di un film Stand by Me ma quelle roba che puoi adattare paro paro le ali della libertà tutta roba che non ero però se vuoi leggere i racconti di la libertà e Stand by Me il corpo insomma così sono identici cioè sono quei casi in cui davvero non hanno dovuto condensare niente tagliare niente cioè prendi la novella e la trasformi in un film The Mist per me è questo cioè è perfetto dal tuo punto di vista grande bella bella scelta io purtroppo devo ripetere per quanto riguarda Carpenter quello che ha detto George perché anche secondo me il più bello è la cosa cioè è il primo che mi viene in mente ed è il primo che consiglierei a una persona che non ha mai visto niente di Carpenter e quindi sulla cosa sono d'accordo con George e per quanto riguarda allora probabilmente non è il miglior adattamento di Stephen King però è il mio preferito perché lo riguardo sempre stravolentieri ed è uno di quei film che per me ti tiene incollato allo schermo dall'inizio alla fine Misery non deve morire ok posso fare un gioco un altro gioco scusami no ti lascio finire non lo so no no io ho finito non so se voi se voi lo detestate se è un film che non vi piace cosa ne pensate di Misery secondo me a me è sempre piaciuto molto cioè è un film tenuto su da due prove attoriali veramente veramente stratosferiche quello che Rainer nel momento di grazia no volevo fare un altro gioco prima che risponda Stadio alla domanda vorrei provare a indovinare il film preferito di Carpenter di Stadio addirittura sì vai lo dico insieme della follia hai perfettamente ragione insieme della follia è il mio film preferito di Carpenter non credo però che sia il film più bello di Carpenter è il mio preferito per tanti vari quindi c'è questa c'è questa distinzione no la cosa è più bello comunque nel senso la cosa è uno dei dieci film perfetti del cinema tutto e se ne devo scegliere proprio uno che dici questo è l'apice raggiunto da Carpenter non lo so perché o è la cosa cioè Halloween per me è un film tranquillamente a livello della cosa e minchia e Fugue da New York è un film tranquillamente a livello dei due precedenti cioè già solo questa sacra triade non se ne esce per questo io di solito dico il mio preferito così me la cavo con la paraculata del film che a me piace di più perché tra l'altro il seme della follia ovviamente film super lovecraftiano come concetto ma in realtà è un film che parla di Stephen King cioè Sutter Cain è Stephen King non è Lovecraft che era un un reietto cioè Sutter Cain è una superstar tanto quanto Stephen King quindi è uno per me è uno dei grandi non adattamenti kingiani cioè è un film su Stephen King prima di dire il mio migliore adattamento kingiano però volevo anche guardare un po' tra i commenti cosa dicono devo dire che Stand By Me forse è il più indicato come migliore adattamento e la cosa effettivamente becca un sacco di voti qua abbiamo questo è un po' prendo quello di Mark Holland ma vale un po' per molti come è un po' il commento medio ma non è l'unico c'è chi suggerisce Shining e addirittura Distretto 13 e cosa vuoi dire Distretto 13? il Signore del Male abbiamo abbiamo uno Shining e si vivono e si vivono effettivamente c'è un coraggioso Fab Futurist che dice che quando era molto più giovane andava matto per Secret Window Secret Window per me fu una delusione clamorosa perché il racconto è bellissimo cioè il racconto se lo leggi senza sapere la trama i colpi di scena è veramente una delle cose più efficaci per me ma è scritto da King e il film Algerva di Mist fa proprio schifo la trama io devo dire che su The Mist sono d'accordissimo con George è un film molto molto bello e come suggerisce Stigno il finale cinematografico sì il finale del film è più bello è più bello quello del libro ecco una cosa che volevo dire sempre per rispettare finisco il giro di commenti poi torno da te Sblog dice sono fissa con Distretto 13 ma come per Killers dei Medi come fai a dire che è il migliore io lo dico che Killers è il migliore dei Medi a me non mi piace Bruce Dick vabbè a te non piace no a me piacciono i due dischi con Paul D'Anno mi piace ah i due dischi con Paul D'Anno D'Anno mi piaceva era un bel cantante poi purtroppo è arrivato quell'altro vabbè fermati ti prego no solo una cosa io adoro Stand By Me volevo dare una risposta nell'ambito nell'ambito calcistico ecco quindi quindi ho detto The Mist se dovessi probabilmente scegliere il mio film preferito tratto da Stephen King in assoluto probabilmente direi anche You Stand By Me cioè Stand By Me è uno dei miei film preferiti al di là che sia tratto da Stephen King io invece come il mio migliore film preferito tratto da Stephen King devo dire che non me ne frega un cazzo di tutte le giustissime obiezioni che sono state già fatte nei commenti in anticipo direttamente per me che lo dicessi ma è Shining perché non me ne frega niente che è un pessimo adattamento del romanzo è un film talmente della super stramadonna che vale tutto cioè Shining è Shining ah ok sì sì è uno io non credo di conoscere tipo persone a cui non piace Shining a parte Stephen King nessuno mi ha mai detto ho visto Shining e non mi è piaciuto e poi Stephen King non lo conosce però io non sia possibile sì tra l'altro non me l'ha mai detto di persona quindi no sì e poi soprattutto posso dire questa cosa guardatevi la versione lunga di Shining la versione lunga di Shining è meglio della versione corta di Shining sì l'importante è che non guardiate il sequel di Shining bravo Dr. Sleep mamma mia io ho fatto questa scelta ho letto Shining molto tardi forse te ne avevo anche parlato ho letto Shining molto tardi perché venivo dall'idea travisata insomma da informazioni sbagliate eccetera che non fosse uno dei migliori libri di Shining ma certo quella è la posizione invece dei cubricchiani stimo sì il libro è stupendo leggo il libro e dico oh a sto punto fanculo leggiamoci anche Dr. Sleep già che ci siamo non l'avessi mai fatto il libro il libro è piuttosto brutto e però poi quando ho saputo che Flanana doveva fare il film ho detto dai che potrebbe essere uno di quei casi in cui il film viene meglio del libro perché di solito quando i libri sono mediocre se c'hai comunque uno che è capace di fare i film horror e magari ha due tre buone idee tradisce un po' i romanzi no ha deciso di farlo esattamente uguale oltretutto facendo una cosa che probabilmente che ha messo in difficoltà Stephen King che poi durante l'intervista ha dovuto dire no ma alla fine dai approvo questa cosa di averlo reso il sequel ufficiale di un film che detestavo no perché comunque diventa il sequel ufficiale del film di Kubrick quindi riesce a prendere due piccoli con una fava perché non solo adatta male un libro già di per sé brutto ma fa l'ottima mossa di ricordarci uno dei migliori horror di tutti i tempi e paragonarsi a Kubrick no quindi c'è proprio le fatute no no è un film che in ogni inquadratura è un film che in ogni inquadratura sembra dire beh sarà meglio questo qui rispetto a quell'altro là qua si affedevi qua si affedevi questo che roba qui questa è prova di bomba questo film questa cosa qui non la vedi mica capita con quello là con questo qui ora la capisci questa cosa qua l'abbiamo spiegata bene qui eh sì perché bravo esatto queste robe artistiche anni 70 esatto 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 è proprio quello che fa il film premendo ogni tre secondi mamma mia che brutta esperienza Christian Zucca suggerisce che The Stand è un grande romanzo sì The Stand per noi italiani l'ombra dello scorpione è uno dei grandi irrisolti della storia di Stephen King nel senso che chiaramente la cosa che meriterebbe l'adattamento definitivo che sia una trilogia di film da due ore e mezzo l'uno o una lunga serie tv hbo con un sacco di soldi dietro sono stati fatti dei tentativi ma non è mai uscita la versione definitiva ma vi faccio una domanda al volissimo poi passiamo ai Jimmy Bob ma secondo voi quindi Stephen King è cinematografico o è più adatto alla televisione se uno deve fare un adattamento secondo voi è effettivamente più facile farci una serie tv o può essere cinematografico ti do la mia risposta che ho dato prima il migliore modo per adattare Stephen King al cinema è adattare le sue novelle se vuoi adattare uno dei suoi romanzi al meglio in maniera fedele e riportare quello che rende King King in formato visivo forse una miniserie ad alto budget è la soluzione migliore prima citavano Flamagan citavano Midnight Mass che non è tratta da King ma che comunque è una roba iperkingiana ed è iperkingiana proprio perché riprende la struttura di un romanzo di King e riesce a renderla perché ha tante puntate per farlo poi questo non vuol dire che automaticamente venga bene perché 22.11.63 la miniserie è una merda colossale e pur avendo avuto tutto il tempo di adattare un romanzo che peraltro a me piace molto non lo so se voi siete d'accordo pur essendo una dell'ultima roba che ha scritto a me il romanzo era piaciuto molto ma perché mi piacciono le cose anche di fantapolitica quindi comunque me lo sono goduto tutto e la miniserie comunque riesce nell'incredibile impresa di non riuscire a raccontare quasi nulla del libro pur avendo tutto il tempo per farlo ah vedi ok poi ci sono comunque dei casi virtuosi che sono più eccezioni che altro di romanzi che sono stati adattati bene nel senso al di là dei classiconi voglio dire al di là dei Carrie e degli Shining per me il film di cose preziose è un film bellissimo il romanzo per me secondo me è uno dei migliori uno dei più belli mai scritti da King e il film ne coglie alla perfezione le atmosfere pur ovviamente dovendo tagliare tre quarti della roba che ci succede perché è un romanzone lentissimo ponderoso di piccoli aneddoti quotidiani in un paesino per cui insomma il romanzo apparentemente sarebbe poco cinematografico in realtà ci sono riusciti a farlo funzionare perché ne hanno fatto un film di attori perché hanno calcato molto sulle stranezze sulle differenze anche di classe sociale all'interno di questo paesino per cui hai gli straricchi e gli strapoveri e tutto quello che ci sta in mezzo e questo ti fa molto sottobosco per cui anche se un personaggio lo vedi in una scena è come se avesse letto dieci pagine su di lui insomma c'è modo di farlo si tratta di avere l'approccio giusto che non tutti sono quasi nessuno o comunque percentualmente meno del 50% di quelli che ci hanno provato sono riusciti a farlo anche perché a volte uno di questi che c'è riuscito è Rob Reiner che era anche sbaglio era uno dei pochi che King diceva i suoi film sono stati sono adattamenti ben riusciti visto che prima o poi l'abbiamo citato è stato Stand By Me è stato il più citato nella chat mi ricordavo sta cosa che lui se non sbaglio apprezzava i due film che aveva fatto lui o sbaglio? non mi ricordo per rispondere a Marco io non ho visto Castle Rock perché purtroppo con le serie tv sono sempre un po' indietro con tutto ho visto la prima stagione era carina però per me ha lasciato un po' il tempo che trovava ecco cioè piuttosto The Outsider sì però non ho letto il libro in quel caso per dire però The Outsider era molto molto ben fatta questo mi sembra un buon modo per chiudere la discussione mi giro adattamente The King in generale per me Among the Living degli Antrax perfetto io effettivamente conosco poche cose prodotte da mente umana più belle di Among the Living degli Antrax quindi ci posso stare e cioè per me il problema forse è che sì come dici tu giustamente Sandlio si può fare perché ovviamente è stato fatto nel senso che di film belli tra The King esistono cioè la mia io quello che ho detto non è una regola ovviamente no Ferra no no però è più una regola la tua in realtà sì cioè sono le eccezioni quelli che l'han capito sì 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 esatto esatto perché il problema è che non è stata trovata la formula standard che puoi applicare ecco no però il problema forse è perché i film che vengono fatti con criterio che magari hanno un po' più tempo per essere sviluppati dietro hanno un incrocio fortunato di creativi eccetera riescono però tanto spesso la roba di King nasce come è il caso di Christine da la volontà di un produttore che vuole semplicemente fare dei soldi adattando un romanzo di Stephen King quindi sono delle cose su commissione che vengono prodotte dagli evil come si dice executives dagli volarni di Hollywood e che quindi non hanno nessuna cura per tutto quello che grazie di volarni non hanno nessuna cura per tutto quello che concerne lo studio che c'è dietro a ottenere un buon adattamento no cioè semplicemente dicono ok la storia a spanne è questa qua perfetto facci il film no e non c'è nessun lavoro dietro per capire che cosa fa di King cosa affascinante cosa lo rende affascinante cosa rende affascinanti le sue storie e nessuno si è fermato a pensare che effettivamente quello che rende affascinante le sue storie è la cosa meno cinematografica di tutte perché è facile dire eh no ma i libri di King sono già delle sceneggiature scritte non è vero perché comunque sono talmente prolissi delle volte e bulimici e stracolmi di roba che è proprio l'anticinema quella roba lì no sì sì top grande sì c'è anche il problema che adesso ci stiamo perdendo non ne usciremo più però adesso giuro l'ultima cosa poi facciamo i Jimmy Bobo c'è il problema che si tende a pensare ah Stephen King scrive gli horror fa paura ma il punto è che le sue storie che fanno paura che fanno effettivamente paura sono le storielle da due tre pagine che ci sono nelle raccolte nei vari mezzanotte già erano lunghe però insomma cimitero vivente quelle raccolte di raccontini brevi di due tre pagine che hanno quindi il twist finale che ti gela il sangue se alcuni sono fatti particolarmente bene e cioè e ti rimangono dentro nel senso hanno uh abbiamo un raid abbiamo un raid di horror dipendenza salutiamo gli amici di horror dipendenza mentre parliamo di fare paura grandissima salutare da ecco grazie grande grande Silvia ciao grazie del raid bello quando si può usare questa immagine si è sempre bello è sempre bello e per cui no appunto visto che sono arrivati gli amici di horror e le amiche di horror dipendenza si parte dal presupposto che le robe di King facciano paura ma le robe di King non fanno paura in modo cinematografico cioè tu dovresti prendere i suoi raccontini brevi per avere una cosa che può essere sviluppata a quel punto magari in un cortometraggio di mezz'ora tra l'altro senza stirarla per un film ma it per dire non fa paura in quel modo lì poi per cercare di farlo diventare una cosa spaventosa al cinema usi jump scare usi tanti effetti speciali barocchi come negli scarsour o uno scarsour da caso lo fai ballare le fai fare quelle cose che fanno loro però non puoi rendere la paura è un romanzo sulla paura di invecchiare sulla paura di perdere quello che ti rendeva quello che eri quando eri giovane sono paure anche di tipo diverso rispetto a quelle però le produzioni medie dicono questa roba è di King quindi ci saranno dentro almeno 4 o 5 morti violente alcune un po' creative su questa ci costruiamo la scena madre del film ma non è quello King non ha mai scritto uno slasher e spesso viene trattato come se fosse un autore di slasher ed è quello secondo me il motivo per cui non hanno scraccato la formula per come si adatta King perché lo approcciano proprio dall'angolo completamente sbagliato e quindi poi non ci invece è Christine per tornare al film di cui stavamo parlando è un film horror in cui la cosa peggiore di tutto il film sono le morti perché non sono mai particolarmente di impatto o non fanno paura pan intended perché comunque sono di impatto bene bene beh quindi è arrivato il momento della cosa più importante della nostra serata forse addirittura della nostra settimana giusto il premio Jimmy Bobo e questa sera devo fare questo equilibrismo evoluzione di prepararlo mentre lo presento che non è facile dovrò anche il sondaggio e cose quindi dovrò usare molta concentrazione quindi per favore distraietemi facendo versi buffi così fa più ridere creiamo ah 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 allora il premio Jimmy Bobo è quel premio che noi diamo ormai da anni al nome più buffo che abbiamo trovato nell'intero cast and crew del film che abbiamo analizzato questa sera non abbiamo potuto non siamo potuti imitare Christine perché non c'erano abbastanza nomi per cui i nomi sono stati presi da Christine da Cugio e dalla zona morta così da fare il trittico di King di quell'anno vi verranno presentati 1983 1983 anno tra l'altro che io ricordo benissimo perché di Nacqui quindi io ho l'età di lo ricordi? ma lei è invecchia no certo lo ricordo molto meglio che è stato un anno prima del covid non mi ricordo più nulla l'83 invece mamma che tempi mi ricordo quando guardavo il TG in piena estate non so cosa fosse successo nell'83 con il popolato che è un po' morta nel vuoto comunque presenteremo questi cinque nomi ciascuno associato a un numerino tutti diversi tra di loro e quando vi darò il via voi scriverete in chat il numerino che corrisponde al nome che vi fa più ridere e se siete abbonati al nostro canale Twitch il vostro voto vale doppio double per cui questo sarà complicatissimo niente devo prima presentarmi i nomi e poi creare il sondaggio perché purtroppo il mio cervello ha dei limiti con il numero uno nel ruolo di liquor store clerk quindi un ruolo importante perché ti vende l'alcol una persona dalle dimensioni modeste non particolarmente ingombrante direi anzi quasi capace di rendersi invisibile in una folla è proprio lui Daniel Lomino Daniel Lomino nel 1947 si chiama la famiglia Lomino sono alti così da secoli tra l'altro con il numero due invece abbiamo una persona che si diverte fa uno spettacolo fa spesso uno spettacolo di se stesso diciamo ma non con gli animali perché quello è maltrattamento è crudeltà è proprio lui Richard Circo scritto così perché ha antiche origini mesoamericane con il numero tre abbiamo una persona che si trova spesso tra un megatiro e un film di Spike Lee è proprio lui David Canestro questo l'ho preparato ad oggi pomeriggio bellissima con il numero quattro abbiamo un colorist che pensate per i colori di quel del film a cui hai partecipato usò solamente il rosso perché gli piaceva un sacco ed è proprio lui Richard Garibaldi purtroppo che mentre era sul set di Cugio Richard Garibaldi fu ferito ad una gamba e tra l'altro possiamo anche svelarvi chi fu a ferirlo perché non fu una persona normale ma fu proprio lui Cactus 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 è il suo ruolo sul set ma lui di nome fa Cactus con il numero 5 quindi riassumendo abbiamo con il numero 1 Daniello Mino con il numero 2 Richard Circo con il numero 3 David Canestro con il numero 4 Richard Garibaldi con il numero 5 Cactus è arrivato il momento di creare velocemente il sondaggio voi intanto riempite questo vuoto dicendo le parole Allora ci tengo Fab Futurist mi ha chiesto di fare di nuovo ahhh perché deve fare il suo vicino era molto simile al honking di una macchina bellissimo potete votare a partire da adesso votate ci siamo ci siamo intanto stavo leggendo un po' di commenti tra l'altro questa sera non abbiamo esclusi perché devo dire che comunque questi 5 sono stati tratti fuori da 3 film e niente non ce ne erano molti è stato è stato un Jimmy Bobo un po' combattuto ma vedo tra l'altro spero che stiate notando come tra i commenti pare che io sia riuscito a evitare che Mubot spoileri i risultati in anticipo dicendo finora ci sono stati tot voti sarebbe se effettivamente ci sono riuscito parla così Mubot vedi vedi se ne accordo anche Stigno stasera Mubot non spoiler perché ho trovato un bottone e l'ho premuto ma quindi io sto immaginando te con dei guantini senza dita che tipo scrive delle linee di codice a questa velocità no? assolutamente io ho dietro di me un grosso schermo blu su cui passa la matrice non il posto io ti sto immaginando come nella scena dei Jurassic Park quando devono sbloccare i cancelli sì 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 no questa sera bisogna controllare un sacco di cose contemporaneamente infatti ho questo ciuffo da scienziato pazzo che è stato fatto apposta per essere in oh sono arrivati tanti voti il Gerva ci chiede se è il butone è quello che mi ha dato per fare un voto ah sì stigno quando ho pigiato il pulsante ho detto sono dentro è arrivato un voto io stavo quasi per annunciare il sondaggio ma è arrivato un altro voto che è bello adesso siamo probabilmente però a un numero di voti pari al numero di persone connesse quindi forse posso effettivamente chiudere il sondaggio perché non si può votare due volte avete 5 secondi per votare dopodiché prenderò i risultati e annuncerò i vincitori 5 4 3 2 1 0 perfetto prendiamo i risultati elettorali vengono convalidati a partire da adesso il sondaggio viene chiuso non potete più votare ora fatemi questa è la parte in cui devo spiegare Nanni la fa meglio perché ha la voce migliore per fare questo accompagnamento costante bisogna spiegare ogni singolo gesto io sto caricando i risultati chiudiamo il banner che se no copre i risultati che sono eh sarebbero stati una battaglia all'ultimo sangue se non fosse che c'è un trionfo clamoroso il trionfo clamoroso di Daniel Lomino che da solo si porta a casa quasi il 50% dei voti si giocano un bellissimo secondo posto a pari merito David Canestro e Cactus poi Richard Circo e infine buon ultimo Richard Garibaldi and the milles and the milles cantante di un gruppo Rockabilly Rockabilly dell'Italia Lomino Buffo giusto Lomino è proprio lui David Lomino Buffo adesso penserò a Lomino Buffo per il resto della serata e non smetterò mai di ridere quindi facciamo le nostre congratulazioni a David Lomino Daniel Lomino Buffo che vince il premio Jimmy Bobo di questa sera rimangono a questo punto due cose da fare annunciare cosa succederà settimana prossima e poi ringraziarvi e salutare ora per quello che riguarda settimana prossima vi chiederei ancora un attimo di pazienza perché vado a recuperare un testo che mi è stato scritto direttamente dal nostro Terrence che è molto bello e ci tengo a citarlo verbatim innanzitutto lunedì prossimo che è il 27 di novembre ci sarà la solita serata news nella quale commenteremo le cose più buffe interessanti e affascinanti ma anche malvagie che sono successe nella settimana mentre giovedì prossimo infernali infernali mentre il prossimo che è il 30 di novembre faremo una bellissima serata dedicata a Fratelli di Sangue con addirittura un trio ora posso leggere il testo che mi è stato passato per la rubrica Fratelli di Sangue vi parleremo dell'antesignano dei vari Insidious Poltergeist di Tobe Hooper poi vi parleremo dell'antesignano del nuovo Poltergeist Insidious di James Wan e infine vi parleremo del nuovo Poltergeist quello di Gil Cannon che non è l'antesignano di un cazzo fortunatamente per cui questo è quello che faremo settimana prossima fammi mettere una bella locandina non è questa merda non abbiamo la locandina di venerdì prossimo fate come se mi sono clamorosamente dimenticato di caricarla ma immaginatevi in questo momento questo confronto c'è qua la locandina di Poltergeist di Tobe Hooper l'originale poi c'è Insidious il primo l'unico il vero l'originale e poi c'è quella ciofeca del remake di Poltergeist che io non ho ancora visto ma già parto dal presupposto che sia una ciofeca questo composito annuncia il fratelli di Sangue di settimana prossima con questo momento direi di grande regia quasi von Trieriana lasciamo all'immaginazione abbiamo solo tracciato dei segni con lo scotch al posto delle locandine ma si vede che questa era una regia su commissione come Christine del resto è il momento di ringraziare come al solito Cristiano Liprandi e Dario Cogliati per la videosigla il maestro Ludwig van Verhoeven per la frenodia per le vittime di Valverde il nano War Steel per la sigla dei 400 calci ringraziare voi che ci avete seguito in diretta poi lo ribadiamo ringraziare anche chi ci ha seguito in differita perché non siamo indifferenti alla differita e basta cosa vogliamo dire buonanotte amici alla prossima buonanotte